Se all'Aquila la situazione dei contagi è tutto sommato sotto controllo, all'ospedale dell'Aquila San Salvatore sono arrivati pazienti da Pescara, dove preoccupano alcuni focolai. A Pescara appunto è nel Chietino. Il reparto di malattie infettive del primario Alessandro Grimaldi si è riorganizzato e al momento ha otto pazienti dall'area costiera, più quelli dell'Aquilano, che comunque ha ricovero in netto calo negli ultimi periodi. Noi negli ultimi tempi addirittura abbiamo riaperto un'ala del reparto, 14 posti letto per i pazienti con infezioni non Covid e abbiamo riaperto l'ambulatorio. Quindi da questo territorio negli ultimi 40 giorni, cioè dal territorio della provincia dell'Aquila, in realtà abbiamo ricevuto pochissimi pazienti Covid positivi. Mentre negli ultimi giorni purtroppo c'è questa inversione di tendenza dal territorio pescarese, per cui abbiamo ricoverato 4 pazienti durante il fine settimana e altri 4 pazienti ieri, perché non c'erano abbastanza posti nell'area pescarese. Speriamo che questa cosa si possa, diciamo che questo fusso si possa interrompere a più posto, purtroppo notiamo che ciclicamente i territori si alternano. Alcune volte, come è successo a noi nel periodo estivo autunnale, c'è stato un sovraccarico notevole su questo territorio perché siamo passati da 350 a oltre 12.000 casi positivi e mentre nella prima fase era stato colpito più il territorio di Pescara, perché qui avevamo avuto solo 350 casi positivi, mentre nel territorio pescarese avevano avuto circa 1.500 casi positivi. Ieri c'è stato un decesso al nosocomio aquilano, una donna di 95 anni, ma la ASLA tiene sotto controllo anche la situazione scuole. Alla ripresa delle attività in presenza, per le superiori ci sarebbero già delle classi in quarantena, mentre a Poggio Picenza i casi sono saliti a 9. Oltre alle tre persone con la variante brasiliana, i casi però non sarebbero legati tra loro. Il ritorno in zona gialla non può coincidere con un Tana Libera Tutti, perché il virus, come conferma Grimaldi, purtroppo circola ancora. La zona gialla, se non è accompagnata da comportamenti responsabili, rischia di essere un boomerang. In che senso? C'è uno studio dell'Università di Bologna che evidenzia come la mortalità per Covid si abbatte del 96% con le zone rosse, del 65-66% con le zone arancioni e solo del 2-3% con le zone gialle. Quindi la zona gialla, se non è accompagnata da comportamenti virtuosi, c'è distanziamento, eccetera, purtroppo non funziona.